Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News, siamo qui con una candidata a sindaco alle eminenti elezioni amministrative a Rivarolo Canavese. Marina Vittone, benvenuta. Buongiorno, ben trovati. Candidata a sindaco della lista Rivarolo Sostenibile con Vittone. Chi è Marina Vittone? Partiamo da lì a individuare il candidato a sindaco. Bene, una domanda particolare questa che mi pone in riflessione. Marina Vittone è una donna rivarolese doc, nata e cresciuta in questa città, che appartiene fortemente a questa città e che ha elaborato il desiderio di riprovare, di ricandidarsi a sindaco, di guidare la città di Rivarolo dopo tanti anni di impegno civile, di passione, di volontariato a favore di questa città. Quindi ho sentito il desiderio e questo desiderio si è accompagnato anche al consenso delle persone che mi hanno chiesto nell'ultimo anno e in molti mesi di riprovarci perché poteva essere una vera alternativa per la città di Rivarolo. Il mio impegno a favore della città nasce da lontano, sin da giovanissima ho sempre avuto esperienze di associazionismo, di volontariato. Sono partita dalla mia frazione Natia, Argentera, dove ho ricoperto ruoli direttivi nel gruppo ricreativo, il nuovo gruppo argenterese. Poi dal 94 in avanti nella Proloco Cittadina, una grande esperienza anche dal punto di vista umano, delle relazioni umane, sino a ricoprire il ruolo di dirigente a livello provinciale e regionale dell'Unione Nazionale delle Proloco Italiane. Questo mi ha consentito di stringere tante relazioni anche con le istituzioni, locali e sovralocali, nella collaborazione degli eventi non soltanto in Torino città ma anche in tutta la provincia e in particolare a Rivarolo. Dal punto di vista professionale un grande arricchimento, il fatto di lavorare nella scuola, quindi nello Stato, ha sicuramente contribuito a determinare in me un senso del dovere, un senso della responsabilità e del rispetto verso le istituzioni davvero importante che mi ha dato poi quella spinta per propormi alla città di Rivarolo, alla guida della nostra città. Marina Vittone è affiancata in questa avventura da una squadra di persone note, conosciute comunque in città. Sì, abbiamo lavorato alla costruzione di questa lista civica, Rivarolo Sostenibile con Vittone, per molti mesi. Io ho avuto esperienze, come si sa, nell'amministrazione comunale sin dal 1994, 98-2002 sono stata consigliere di maggioranza, poi in questi ultimi cinque anni capogruppo di opposizione nel gruppo Rivarolo Sostenibile con Vittone. È stata un'esperienza assolutamente formativa che mi ha consentito di conoscere a fondo l'organizzazione della macchina comunale, non soltanto dal punto di vista degli organismi di rappresentatività politica, ma anche dal punto di vista del funzionariato e delle funzioni e delle competenze che il Comune gestisce quotidianamente. Ci siamo interessati dei grandi temi, delle questioni principali della nostra città, dall'urbanistica al bilancio, dalla cultura all'associazionismo, lo sport, il commercio, e abbiamo acquisito insieme ad alcuni del mio gruppo, che sono candidati all'interno di questa lista, davvero una grande e notevole esperienza in materia. L'anno scorso abbiamo iniziato a lavorare alla costruzione del nuovo gruppo, che è assolutamente rinnovato, e che è composto da persone che vivono in Rivarolo, che hanno le loro attività lavorative, che qui hanno investito nelle loro attività, nelle loro imprese, che qui hanno i figli introdotti nelle scuole e che quindi hanno un radicamento molto importante, un senso di appartenenza alla città. Diciamo che le persone che sono con me, che mi accompagnano in questa avventura, sono simili a me. È stato molto spontaneo trovarsi e aggregarle, hanno delle competenze professionali molto importanti e ci tengo molto a dire che è una lista civica composta di rivarolesi, di rivarolesi che ci tengono davvero al proprio territorio, a fare qualcosa di buono per migliorare la nostra città. La nostra città è la nostra casa e la casa deve essere curata da tutti i membri della famiglia. Quindi sono certa che la nostra lista sarà in grado di garantire, se la città ci eleggerà, di garantire e sostenere bene l'amministrazione comunale. Tra le altre cose ci stiamo mettendo davvero passione in questa campagna elettorale. Come lista civica non abbiamo, come si sa, apparentamenti coi partiti, stiamo sostenendo interamente la campagna elettorale con i nostri fondi personali e questo per dire che ci stiamo mettendo in gioco fino in fondo e che abbiamo davvero amore verso la nostra cittadina. E fin da quando vi siete trovate e vi siete riuniti avete iniziato a lavorare a un programma molto ricco, intenso, anche con degli accenni alla progettazione, quindi diciamo una primaria progettazione, però ascoltando i cittadini. Senz'altro, questa è un po' la nostra cifra in effetti, il dialogo, il ricostruire il dialogo con i cittadini, con gli elettori e soprattutto confrontarsi con loro, ascoltarne le esigenze e poi costruire un programma davvero partecipato. Non a caso la nostra lista è stata costruita con delle doppie competenze nei vari settori. Credo che siamo riusciti veramente a coprire, come si dice, completamente i settori importanti, quindi il commercio, lo sport, cultura, turismo, associazioni, urbanistica e opere pubbliche, bilancio, politiche sociali. I grandi settori, le macro aree amministrative sono assolutamente coperte all'interno della nostra lista dalle competenze che siamo riusciti a portare all'interno e come dicevo una doppia competenza perché abbiamo voluto comunque strutturare questo gruppo di lavoro in modo che su ogni settore ci fosse un team e anche naturalmente nella speranza di essere eletti, di avere figure che potranno ricoprire il ruolo di assessori e in appoggio i consiglieri delegati che potranno lavorare direttamente con i consiglieri e con gli assessori e mantenere il rapporto con i cittadini. Il rapporto con i cittadini per noi è molto importante, trova spazio all'interno del programma, ci è molto dispiaciuto sentire dai nostri concittadini la distanza che si è creata verso l'istituzione, verso il comune in questi anni e il rimprovero giusto fatto nel dire non ci si può ripresentare solo ogni cinque anni senza dare un report intermedio, senza ritornare nelle frazioni, senza tornare a parlare con le categorie lavorative, con le associazioni. Di conseguenza noi abbiamo proprio inserito nel programma il fattore del confronto almeno annuale con la cittadinanza sulle grandi tematiche. L'amministrazione deve rendere conto, deve rendicontare, fare un'azione di resoconto e di relazione di mandato, ma non soltanto di fine mandato, si parla di relazione di fine mandato. Invece è importante fare una relazione in itinere, man mano che si lavora e che si fa progettazione. Il nostro programma quindi dicevo molto partecipato anche dalla cittadinanza, abbiamo fatto gruppi di lavoro con cittadini singoli in forma associata, con le associazioni, abbiamo incontrato le categorie lavorative e abbiamo davvero tratto molti molti spunti. Il programma è stato strutturato in un doppio modo, quindi con l'attenzione a quello che deve essere una buona progettualità e l'attenzione a quello che invece può e deve essere il rapporto col cittadino. La cifra principale del nostro programma è la volontà di voler riportare una buona attività di manutenzione sul territorio. Infatti ci siamo resi conto che la scarsa manutenzione di questi anni ha trasformato, ha già trasformato quella che dovrebbe essere una semplice attività di manutenzione ordinaria in realtà in una manutenzione straordinaria che quindi richiederà degli investimenti superiori. Questo non deve più succedere, ci deve essere una manutenzione continua fatta a piccoli passi per priorità stabilite a monte, quindi ci vuole capacità di analisi. Abbiamo delle grandi criticità legate agli spazi che devono essere fruiti dal punto di vista dell'aggregazione, della promozione sociale e quindi abbiamo dei grandi progetti, due grandi progetti che intendiamo nell'arco del quinquennio, se ci verrà data l'opportunità dalla cittadinanza, intendiamo sviluppare. E poi vogliamo anche porre un'attenzione particolare a quella che è la vocazione principale di Rivarolo, quindi alla vocazione commerciale e turistica per quanto riguarda la capacità di attrarre turisti in Rivarolo c'è molto molto da lavorare, noi abbiamo creato delle strategie che intendiamo mettere in atto per promuovere Rivarolo turisticamente. Rivarolo deve tornare ad essere una città turistica inserita nel sistema turistico piemontese e per questo occorrerà creare delle relazioni anche con le imprese, col mondo del no profit, con gli enti sovraordinati. Le altre due vocazioni molto importanti della nostra città sono legate allo sport e alla cultura, all'istruzione. Rivarolo ha una grande storia dal punto di vista dell'istruzione che comincia subito dopo l'Unità d'Italia, anzi forse anche prima, e pertanto noi dobbiamo lavorare su due filoni, quello dell'edilizia scolastica e quello dei progetti con le scuole, quindi un progetto di educazione permanente. Noi l'abbiamo definito in questo modo, ci interessa lavorare moltissimo con le fasce giovanili che sono poi anche quelle che fruiscono degli spazi cittadini, degli impianti sportivi, dei nuovi spazi che andremo a creare per creare grandi eventi e portare attrazione in Rivarolo. Adentriamoci nel programma. Partiamo magari dai due progetti che prima sono stati annunciati come progetti un po' più grossi e un po' più imponenti nella città. Il primo progetto è quello che abbiamo definito Pala Rivarolo, l'abbiamo denominato così perché vogliamo esaltare il nome della nostra città, di Rivarolo città. Ecco, questo è un progetto che credo assorbirà le nostre energie, rappresenta il grande sogno, il sogno che la città ha da tanti anni, da almeno 20 anni, aspetta una struttura polivalente, polifunzionale, in una posizione centrale, in grado di ospitare eventi di qualità, in modo continuativo durante tutto l'arco dell'anno, anche nella stagione invernale. Un progetto che va a intercettare l'esigenza della cittadinanza di tutte le fasce di età, la fascia giovanile, così come anche la fascia della terza età, infatti durante il nostro lungo interloquire con i cittadini e con le associazioni ci è stato chiesto, sia dai giovani che dagli anziani, dai meno giovani, di veramente procurare un locale, un polo dove si potessero organizzare eventi tutto l'anno. E quindi noi ci teniamo molto a realizzare questa struttura, abbiamo identificato la locazione, avevamo valutato un paio di locazioni, di luoghi in cui realizzarlo, però la nostra attenzione è concentrata sull'area delle vecchie scuole. L'attuale amministrazione, si sa, ha portato a termine una progettualità che prevede per quell'area la demolizione completa delle scuole e la realizzazione di un parco urbano, di un luogo aperto, di uno spazio aperto verde. In questi cinque anni noi abbiamo seguito da vicino l'ITER, gli studi di fattibilità e gli studi economici, che sono costati anche non poco, alla collettività e rispettiamo la scelta politica che è stata fatta dall'attuale amministrazione, ma non la condividiamo, perché a nostro avviso l'impegno di spesa non corrisponde all'efficacia di questa visione urbanistica, di questa soluzione urbanistica e soprattutto non intercetta il bisogno della cittadinanza. Il progetto, le opere sono state purtroppo per noi appaltate, vedremo se cosa fare, se sarà il nostro turno, se sarà la nostra amministrazione a essere eletta. Valutiamo quindi due possibilità, se i lavori saranno avviati entro i termini, si procederà alla demolizione e si procederà in questo brevissimo tempo alla demolizione, noi abbiamo intenzione di riconvertire l'opera, quindi di fare una variante in corso d'opera, per questo progetto, per la quale sono previste delle penali modeste, ma soltanto relativamente alla parte di lavori residui, che comunque non è detto che vengano applicate, perché se l'amministrazione comunale trova un accordo con la ditta appaltatrice per riconvertire il progetto, come è nelle nostre intenzioni e se c'è soddisfazione da entrambe le parti, noi intendiamo realizzare questa struttura. Ho portato con me oggi, se posso far vedere alcune immagini, che avevamo già anche lanciato per la nostra campagna social, non so se possono essere visibili in questo modo. Prevediamo quindi una struttura su due piani, che considerando l'estensione longitudinale lungo l'asse di via San Francesco d'Assisi, ha un ingresso centrale, quindi considerando l'ingresso centrale sulla sinistra, al piano terra è prevista una sala polivalente da almeno 350 posti, che consentirebbe di ospitare eventi di ogni genere, musicali, canori, enogastronomici. Al primo piano invece un'altra sala più grande, con inclinata, che consente quindi con delle tribune che si possono inclinare e che sono mobili, consente di fare proiezioni e consente anche di fare attività teatrale, mentre invece nella parte destra, per intenderci verso via Favria, in basso abbiamo previsto delle aule studio per studenti, nel piano terra, perché il progetto si inserisce proprio in un'area dove insistono tutte le strutture di edilizia scolastica superiore, di scuola superiore. Al primo piano invece sono previste delle sale per le associazioni cittadine e con questo noi intenderemmo risolvere, ecco questa è un'altra vista, la vista dal fronte sud, intenderemmo in questo modo risolvere il problema di carenza di spazi per le sedi associative. Naturalmente un'area di questo genere, che si inserirebbe in un contesto centrale urbano, quindi assolutamente necessita di parcheggi, prevediamo quindi anche di fare dei parcheggi interrati per servire l'intera area e che sarebbero sicuramente utili anche per tutta la cittadinanza. Questo progetto naturalmente si accompagna ad un piano economico importante, noi intendiamo utilizzare risorse in parte proprie, in parte attraendo dei fondi regionali ed europei e valutiamo anche una possibile collaborazione pubblico-privato. Nel fronte che dà verso invece la piazza Chioratti, prevediamo anche una parete di questo stabile libera per proiezioni all'aperto. Intorno abbiamo delle aree verdi attrezzate e invece la chicca di questa progettualità, di questa idea progettuale, è la terrazza verde all'ultimo piano, al secondo piano, che è fruibile dai cittadini e ci sono degli alberi fotovoltaici, li abbiamo chiamati in questo modo, quindi pannelli che catturano l'energia e l'edificio sarebbe quasi interamente autoalimentato. Quindi un progetto all'avanguardia, un progetto green, perché la nostra lista, arrivare allo sostenibile, ha naturalmente delle sensibilità importanti da questo punto di vista, un grande progetto che sicuramente occuperà le nostre energie per cinque anni. L'altro grande progetto di cui invece abbiamo parlato è quello collegato allo sport. Abbiamo un centro comunale polisportivo che necessita assolutamente di manutenzione straordinaria. abbiamo la criticità collegata alle squadre che sono costrette all'omologazione del campo da basket, quindi la squadra cittadina è costretta a giocare fuori. Questa significa che persone, turisti, vengono amanti dello sport, appassionati, vengono portati all'esterno e quindi una risorsa importante va fuori di Rivarolo. Dobbiamo far fronte a questa necessità, abbiamo delle problematiche legate alla piscina, legate anche alla pista d'atletica, quindi serve una grande opera di ristrutturazione, di messa a norma di questi impianti. Vorremmo provvedere in questo senso ma anche andare oltre, spingerci oltre perché la nostra intenzione non è quella di creare una palestra di medio livello ma di fare il salto di qualità con una struttura nuova che ci consenta anche di ospitare quindi un palazzetto dello sport nuovo che ci consenta di ospitare anche partite di Serie A, di Superlega, un palazzetto da mille posti. Abbiamo anche in questo caso visualizzato un'idea che è questa, che posso far vedere, un'idea progettuale che vede la realizzazione di questo palazzetto da mille posti comprensivo ovviamente di tribune per gli spettatori, tribune disabili, spogliatoi per le squadre e gli arbitri e alcune sale diciamo per il rimessaggio delle attrezzature e per i vani tecnici. Questo perché ci rendiamo conto che Rivarolo ha una grande vocazione anche dal punto di vista sportivo. Abbiamo un albo delle associazioni cittadine che è composto da più di 50 associazioni. La maggior parte di queste associazioni sono di natura sportiva e di natura culturale e ricreativa. Quindi come si vede noi vogliamo valorizzare tutto questo tessuto e perché valorizzando questo tessuto si valorizza il turismo e si rivitalizza la città e si aiuta anche il commercio. Il commercio che è l'altra grande leva sulla quale noi intendiamo puntare. Rivarolo è sicuramente il cuore del cannavese anche dal punto di vista commerciale. Stiamo reggendo ma con fatica. Abbiamo bisogno di aiutare il commercio cittadino di investire sul commercio al dettaglio i negozi di vicinato e a questo proposito voglio anche citare il fatto che per quanto riguarda la progettazione urbanistica vorremmo rivedere anche l'attuale destinazione delle varie aree commerciali soprattutto legate alla grande distribuzione. Abbiamo un'area a sud di Rivarolo Rivarolandia che se poteva essere un progetto 25 anni fa quindi parliamo del piano regolatore degli anni 94-2000 poteva essere un progetto che urbanisticamente poteva essere appetibile ante crisi economica poteva essere appetibile oggi non risulta più diciamo di interesse in quanto la grande distribuzione e la media distribuzione in Rivarolo ha già ampio spazio e noi invece vogliamo aiutare il tessuto commerciale cittadino che si sviluppa nell'asse centrale viario di Rivarolo diversamente rischieremmo di essere diciamo presi tra virgolette tra il polo commerciale a nord dell'urban center e quello sud di Rivarolandia che comunque quello sud di Rivarolandia non è diciamo di poco conto perché la superficie coperta tra piastra alimentare ristorazione e servizi annessi è comunque di 6.500 metri quadrati quindi è abbastanza impattante certo e quindi per rilanciare invece il commercio cittadino ecco per rilanciare il commercio cittadino per valorizzare quindi quelle che sono le attività commerciali nel centro città lasciando perdere la grande distribuzione sì allora come dicevo prima per quanto riguarda il commercio cittadino noi abbiamo avuto numerosi incontri con i commercianti sono stati ascoltati abbiamo recepito i loro suggerimenti e così come per le associazioni cittadine è stato lamentato si sono lamentati è stata lamentata la scarsità di dialogo la mancanza di dialogo con l'istituzione e noi vogliamo riprendere questo dialogo interrotto abbiamo inserito nel programma l'istituzione della consulta dei commercianti l'istituzione della consulta delle associazioni cittadine e l'istituzione della consulta delle associazioni sportive quindi come si vede i tre grandi settori economici perché sicuramente contribuiscono a creare ricchezza per Rivarolo devono avere a nostro avviso un organismo intermedio tra la giunta il consiglio comunale e la cittadinanza che trasporti le esigenze dal basso verso l'alto e che sia in grado di creare un dialogo vero puntiamo sui grandi eventi puntiamo moltissimo sui grandi eventi anche in questo caso noi abbiamo due tre rappresentanti il commercio cittadino che saranno in grado quindi di dialogare con questa categoria e vogliamo riportare eventi di qualità in Rivarolo eventi di qualità curati nei dettagli che possano inserirsi bene in un contesto cittadino i grandi eventi hanno bisogno per riuscire bene di tutta una parte di programmazione a monte che deve essere fatta con l'ente locale quindi non deve più succedere che le associazioni lamentino il fatto di essere abbandonate che la procedura burocratica sia complicata e che vengano scoraggiate perché giustamente i volontari come io so bene perché ho vissuto questa situazione tanti anni prestano la loro opera volontaria e gratuita dedicano il loro tempo che viene sottratto comunque alle famiglie al lavoro hanno bisogno quando organizzano di essere aiutati il comune cosa può fare intanto le può sgravare di certe gabelle quindi plateatico tassa rifiuti perché se le associazioni organizzano gli eventi portano turisti in città e c'è una ricaduta economica anche sul commercio di conseguenza devono essere favorite da questo punto di vista perché loro fanno un'azione di promozione sociale e contribuiscono a creare ricchezza per il paese devono essere aiutate a fruire bene delle aree le aree devono essere attrezzate abbiamo sentito che è difficile utilizzare le colonnine della corrente è difficile avere gli attacchi dell'acqua quando si organizzano eventi soprattutto di natura enogastronomica queste sono le basi della corretta prassi igienico-sanitaria e dei piani di sicurezza anche per quanto riguarda i piani di sicurezza il comune attiverà uno sportello dedicato alle associazioni per aiutarle assisterle e indirizzarle farle conoscere abbiamo anche degli strumenti dal punto di vista di pubblicazioni che spiegano bene la normativa la nostra intenzione sarebbe quella di con le associazioni cittadine di vedere di strutturare queste aree in modo che siano più fruibili quindi parliamo dell'asse centrale dell'allea delle piazze di cui si conoscono le caratteristiche le piazze che abbiamo e nelle quali si organizzano manifestazioni e di aiutarle in questo in questo senso invece per quanto riguarda le attività artigianali e le piccole produzioni locali Rivarolo ha un tessuto verde un tessuto agricolo importante abbiamo delle eccellenze enogastronomiche all'interno della nostra cittadina un albo deco di prodotti di denominazione comunale di origine che deve essere rivalutato valorizzato promosso e il comune può aiutare a crescere la filiera corta può rendere i cittadini più consapevoli delle opportunità che ci sono anche in questo caso creando degli eventi che vanno a promuovere i prodotti le aziende per esempio abbiamo il circuito di eccellenza di Campania Amica che sta abbastanza funzionando ma dovrebbe essere promosso ulteriormente quindi dobbiamo mettere in relazione il produttore con il consumatore finale quindi creare la circolazione del prodotto tutto questo contribuisce a creare turismo e quindi a far rifiorire la città di Rivarolo parlando di agricoltura mi viene in mente comunque la periferia della città per cui le frazioni e quindi mi collego alle frazioni che anche se hanno bisogno comunque di attenzione e di essere forse più coinvolte nella vita cittadina un nostro fiore all'occhiello come lista Rivarolo Sostenibile credo possa essere considerato il fatto che abbiamo numerosi candidati provenienti dalle frazioni rivarolesi io stessa ho origine vivo ancora attualmente in una frazione di Rivarolo quindi c'è una grande sensibilità in questi mesi di incontri abbiamo unanimemente sentito che i territori periferici ma non soltanto quelli delle frazioni potrei anche citare il quartiere di via Bicocca si sentono completamente abbandonati soprattutto dal punto di vista della manutenzione torniamo al discorso iniziale vanno valorizzate e promosse queste frazioni queste nostre campagne abbiamo una grande vocazione agricola dobbiamo fare importanti opere di manutenzione dal punto di vista delle strade asfaltatura delle strade della sicurezza stradale quindi ripristinare e completare la rete dei guardrail a protezione là dove ci sono roggi o comunque rii pericolosi abbiamo da completare la rete di illuminazione pubblica e modernizzarla con i punti luce a led abbiamo un grosso lavoro da fare per la manutenzione della rete in rigua minore io in questi anni mi sono battuta molto da questo punto di vista come consigliere comunale di minoranza ottenendo devo dire in qualche caso attenzione smuovendo comunque l'attenzione verso questo tema bisogna anche qui riattivare un dialogo vero sia con il consorzio di gestione delle acque o Vestorrente Orco sia con gli enti preposti per fornire una manutenzione e anche coinvolgere il cittadino perché ci sono anche attività che spettano al cittadino mi riferisco per esempio ai frontisti che hanno proprietà diciamo frontali rispetto alla strada hanno obblighi il compito del comune non è solo quello di emettere l'ordinanza di pulizia ma anche poi di provvedere alla vigilanza e far rispettare nelle frazioni c'è anche un grande problema di dispersione rifiuti nell'ambiente noi vogliamo contrastare abbiamo previsto l'istituzione di un nucleo di pulizia ambientale fatto con vigili quindi municipale non con associazioni esterne o quantomeno non solo con associazioni private bisognerà integrare le due azioni e questo sarà molto importante il lavoro di vigilanza ambientale sul territorio sarà collegato all'incremento della rete della videosorveglianza un altro dei punti importanti che noi intendiamo curare è proprio questo della sicurezza della sicurezza che deve partire proprio dalla rete di videosorveglianza ho già avuto modo di dire in altre occasioni che ad esempio nei luoghi sensibili come le nostre scuole cittadine non c'è il sistema di videosorveglianza dobbiamo assolutamente provvedere perché in quei luoghi ci sono indubbiamente delle fasce c'è un'utenza diciamo tutelata e dobbiamo quindi intervenire in questo senso e abbiamo anche delle situazioni di disagio in alcune zone periferiche per esempio dove abbiamo dei complessi in questo momento che sono da da completare il vecchio complesso di edilizia economica popolare in via Bicocca che ci dà preoccupazioni anche per l'impatto ambientale che ha dovremmo provvedere subito comunque a riportare l'area a decoro e soprattutto riattivare il rapporto con quei cittadini che si sentono abbandonati e che vivono in una situazione di disagio mi riferisco appunto alle case popolari di via Bicocca le abbiamo incontrati recentemente e non chiedono grandi grandi opere chiedono soltanto un po' di attenzione soprattutto di essere riportati in condizioni di decoro e di igiene credo che questo sia veramente un diritto primario dei cittadini il comune non può sottrarsi e deve fare da tramite con gli enti preposti alla gestione quindi l'agenzia territoriale per la casa anche per queste aree avremo un'attenzione particolare parlando di persone in difficoltà nel merito delle politiche sociali sì per quanto riguarda le politiche sociali abbiamo intenzione di ovviamente incrementare le attività con il CIS38 con quindi l'ente preposto a curare queste dinamiche socioassistenziali ma di incrementare soprattutto la rete di servizi utilizzando anche tutta una serie di nuove associazioni cittadine che sono nate nell'ultimo anno e che sono disposte a dedicare tempo donare il loro tempo per attività di volontariato e attività socioassistenziali pensiamo ad esempio all'attività di volontariato che si potrebbe fare per avvicinare le persone anziane per aiutarle magari portando a casa la spesa portando a casa dei farmaci oppure aiutandole nel raggiungere poliambulatori quindi aiutarle laddove non hanno il mezzo per arrivare a fare magari anche solo delle visite sanitarie quindi vogliamo veramente incrementare questa rete abbiamo la possibilità abbiamo già avuto spontanee manifestazioni di interesse in questo senso per collaborare con l'ente locale vedremo di dare ulteriore impulso al polo sociale che è nato nelle ex nei locali della ex pretura dove già ci sono alcune alcune associazioni che lavorano e altre ne arriveranno anche per queste laddove servirà una sede sociale per consentire la loro attività cercheremo di provvedere in merito sociale vuol dire anche fare un'azione congiunta con le scuole dal punto di vista della sensibilità di avvicinare le nuove fasce giovanili i bambini che sono poi i cittadini del futuro a queste situazioni anche di disagio di disabilità abbiamo dei progetti che le nostre scuole cittadine portano avanti da diverso tempo anche qui con l'aiuto volontario degli insegnanti si può dare ulteriore impulso a quello che noi abbiamo definito un progetto culturale integrato quindi un progetto di educazione permanente a 360 gradi per tutto l'anno un programma veramente ricco un altro punto però importante per rivitalizzare una città è la viabilità con la revisione del piano regolatore so che Marina Vittone è stata ferma e decisa negli emendamenti nel presentare emendamenti alla tua amministrazione qual è la vostra idea? Sì abbiamo seguito l'iter del piano regolatore che è giunto alla sua approvazione preliminare avremmo voluto un maggiore coinvolgimento anche attraverso le commissioni consigliari l'abbiamo sollecitato purtroppo non è stato possibile non ci è stato consentito di lavorare ulteriormente però avevamo in sede di proposta tecnica preliminare fatto unico gruppo consigliare il nostro presentato delle osservazioni specifiche una delle quali riguardava la viabilità cittadina è un tema centrale perché la rete viaria consente il raggiungimento di tutte le aree produttive le aree destinate servizi il tessuto l'insediamento centrale urbano centrale e quindi ha da questo punto di vista un'importanza strategica non abbiamo condiviso pur rispettando la scelta politica ma non l'abbiamo condivisa quella di creare una viabilità alternativa stralciando la circonvallazione dal piano regolatore perché a nostro avviso la proposta presentata è una proposta zoppa in quanto deve per forza di cose realizzarsi con delle risorse economiche proprie del comune comunque ingenti ma che non sono sufficienti e devono aggiungersi alla realizzazione da parte di privati di piani di edilizia convenzionata quindi questi che sono stati definiti in gergo urbanistico bypass viari che si trovano sarebbero realizzati alle porte nord sud est e ovest della città le porte di ingresso della città a nostro avviso sono di difficile realizzazione proprio perché sono legati all'opera del privato che realizza quindi il tratto stradale a scomputo degli oneri di urbanizzazione ma naturalmente prima di arrivare a questa fase deve aver costruito e naturalmente fatto la sua attività produttiva ed economica come è giusto che faccia un'attività privata abbiamo quindi anche sottolineato la criticità di di queste di questi bypass cioè di queste strade che si inseriscono nel tessuto verde delle campagne delle nostre frazioni e che si inserirebbero là dove attualmente ci sono delle stradine sterrate monocarreggiata che si insinuano nel verde delle campagne quindi in definitiva quella soluzione non alleggerisce il traffico dall'asse centrale o quantomeno non lo elimina non lo elimina ma lo spalma in modo diverso sul territorio e questo non era lo scopo quello che invece vorremmo noi è di introdurre subito una variante che preveda la riproposizione della circonvallazione perché a nostro avviso ogni città moderna che si che possa vantare questa definizione deve avere una circonvallazione e quindi la nostra intenzione è di realizzare una progettualità sostanziata quindi una proposta solida che possa essere accolta dagli enti sovraordinati in primis la regione Piemonte insieme a questo produrremo il piano urbano del traffico era una delle osservazioni che io stessa avevo prodotto all'assessore dicendo il piano urbano del traffico è un piano preliminare al piano regolatore generale deve venire prima proprio perché il piano urbano del traffico ti consente di regolare di capire come si muovono i flussi di traffico cittadino e su quali arterie c'è il maggior carico di automezzi per questo lavoro noi intendiamo avvalerci anche della collaborazione della consulenza del comando della polizia municipale perché abbiamo visto che il comando è stato poco coinvolto anche per quanto riguarda le soluzioni legate alle piste alle nuove piste ciclabili che sono state realizzate in questo ultimo anno e per quanto riguarda questi percorsi abbiamo in mente anche il completamento di una rete ciclopedonale che si insinua particolarmente nelle frazioni vorremmo quindi creare dei percorsi degli itinerari naturalistici ciclopedonali ma anche dei percorsi perché no utili per chi va a cavallo o chi va a piedi con questi gruppi organizzati negli ultimi anni sono nate delle belle iniziative quindi vogliamo rivalutare anche il tessuto cittadino da questo punto di vista questo è un po' quello che abbiamo a previsione poi ci sono interventi particolari ma non sto a dettagliare ulteriormente certo purtroppo oltretutto stiamo terminando il tempo a nostra disposizione un appello rapido ai cittadini agli elettori l'appello agli elettori è naturalmente dovuto al termine di questa lunga e piacevole intervista noi crediamo di poter rappresentare un'alternativa vera alle amministrazioni precedenti abbiamo visto i nostri i miei avversari in questa corsa elettorale sono già stati al governo della città quindi i cittadini hanno potuto vedere che cosa sono stati in grado di fare o non sono stati in grado di fare credo che i cittadini rivarolesi abbiano una buona capacità di valutazione abbiano memoria storica e che sapranno fare la valutazione soprattutto capire chi può essere più adatto per governare una città di rivarolo con queste dinamiche complesse e avere il tempo da dedicare il tempo lo voglio sottolineare è importantissimo bisogna essere presenti in città per governare tutte le dinamiche amministrative ho già dato la mia disponibilità del mio tempo in maniera completa l'ho già detto ci tengo a questo elemento e invito i cittadini rivarolesi a darci fiducia e quindi ad avere coraggio il coraggio di cambiare grazie Marina Vittone continuate a seguirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti